Atreviso al Veneto è una norma inderoga per cui consente al cittadino di utilizzare senza rovinare il territorio, senza occupare nuovo terreno, di ampliare la propria abitazione, ampliare in qualche modo un piccolo annesso per un beneficio che gli serve. Quindi facciamo il bene dei cittadini, facciamo il bene dell'economia, do qualche dato, finora 23.000 domande già che hanno avuto esito favorevole in Veneto, contiamo di raddoppiare queste domande con questo intervento, se come dicono i dati abbiamo investito circa un miliardo e 400 milioni in Veneto per la piccola e media impresa che ha utilizzato i benefici di questo intervento per fare economia, contiamo di raddoppiarlo con questo piano casa nuovo che abbiamo prologato, quindi bene per i cittadini, bene per l'economia. Abbiamo dovuto nelle mie elezioni consigliari introdurre il fatto che i comuni possono dire a loro, allora mi pare che un invito ai sindaci, cercate di essere generosi, perché è una legge per i cittadini, per i vostri cittadini, per cui invece che limitare consentite ai vostri cittadini di usarla nel pieno delle potenzialità.